Doraemon Ecco Doraemon, gatto spaziale, non ha paura mai di farsi male Ecco Doraemon, gatto robò, la pancia grande, più grande che può Io trovo Doraemon con tutte le cose nella sua tasca magica Mamma che noia di studiare a casa, ora Doraemon ci aiuterà Ecco Doraemon, gatto spaziale, non ha paura mai di farsi male Con l'aereo di non, Dora, 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 dora Nu ci poterà raciù Ucciutaadan, zèm pen Ah, bravo, tarda spaziale, hai vinto Tarzan spaziale è stato magnifico Tu non capisci, non capisci proprio niente, le scene sono piccole fatte male e gli animali sono tutti finti Cosa non ti permetterò di dire male di Tarzan spaziale? Tarzan spaziale è il mio eroe preferito Tutti quelli che vogliono giocare a Tarzan spaziale alzino la mano Fai ancora l'asilo Eh? Ma non vi piace Tarzan spaziale? No, mi ha stufato Sì, è molto noioso, io non lo guardo più da tanto Sono tutti insensibili Un vero minatore continua a fare il tifo per il suo eroe, anche quando le cose non gli vanno bene Tarzan spaziale! Tarzan spaziale, ti prego fammi un autografo Sono un tuo accanito ammiratore Grazie, ma presto vi lascerò Perché? Purtroppo dicono che il programma non andrà più in onda Oh, che peccato Eh sì, il pubblico diminuisce sempre di più e poi il mio non è più un bel programma Che stupidaggine, perché? Perché i finanziamenti sono stati ridotti Così le scene dei telefilm sono sempre più povere Dovrebbero spenderci più soldi Non c'è nessuno disposto ad investire denaro in un programma che ha un basso indice di ascolto Non c'è più niente da fare, amico mio Ti ringrazio per essere stato un mio ammiratore Ciao Ciao Non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa Beh, potremmo usare una macchina per aumentare l'indice di ascolto Se non lo fai Tarzan spaziale non verrà mai più mandato in onda, Doreman Facci picchiolina, farò in modo che Tarzan spaziale continui ad essere trasmesso a qualsiasi costo La cena è pronta Devo assolutamente trovare il modo, ecco Goià, la cena è pronta Non mi seccare, sta pensando, non vedi? Mamma, la cena non è pronta? Non urlare nel cuore della notte, la cena è finita tanto tempo fa È finita? E perché non mi hai chiamato? Quando ti ho chiamato mi hai detto di chiudere il becco Ne ho fame, ho fame Sto, prendi, mangia questi Semi dell'obbedienza per animali senza volontà Se li mangi non ti faranno male Veramente sono adatti per animali privi di carattere Chi li mangia farà tutto ciò che gli viene ordinato da colui che glieli offre Doreman, svegliati, ho un'idea fantastica Tanto cazzista, ma che dici? Ma sei un cazzo Per farlo rialzare? No, il produttore vuole farla finita Perciò questo è il momento Aspettate, vi prego Tu sei il ragazzo di ieri Voi dovete fare dei telefilm dinamici a basso costo Conosco un posto molto grande che assomiglia esattamente ad uno scenario di cento milioni di anni fa Con enormi dinosauri finti che si muovono come se fossero vivi Lo potete usare senza pagare niente Bugi è il ragazzo mio, tutte storie inventate Capo, ascoltami, questo ragazzo è molto in gamma Credo che dovremmo metterlo alla prova Ti do un giorno di tempo, ma se non funziona Chiudiamo baracca, chiaro? Questa è una foresta di cento milioni di anni fa Doraemon doveva essere già qui, ma non lo vedo Prima di tutto cercherò un paio di dinosauri adatti E gli darò dei semi di l'obbedienza Così diventeranno docili Ehi Doraemon, tutto bene? Dora che te ne pare? Mi sembra brutto Kazian può montarci sopra e... Sarà ridicolo, l'indice di ascolto diminuirà di più Non va bene Sarebbe meglio trovare un animale... Sì, lo sono, ma... D'accordo, incontriamoci qui fra un'ora esatta Ciao Credevo che ci fossero tanti dinosauri in questa era Ma la terra è certamente molto grande Ed in questa zona non vedo neanche una traccia di dinosauri Aiuto, 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 aiuto Mi prende, mi mangia, mi prende, mi mangia Mi prende, mi mangia, mi prende Ah, Doraemon, no, ah, Doraemon Mi prende, mi prende, mi prende, mi prende Grazie a tutti.